Ciao ragazzi bentornati sul canale di Recosta oggi andiamo a vedere i 5 centrocampisti da scherare assolutamente al fantacalcio per la ventesima giornata di Serie A allora prima di cominciare vi do una piccola news di oggi uscirà un video veramente particolare di quelli che non ho mai fatto quindi verso le ore 17 pomeriggio uscirà questo video mi raccomando ragazzi guardatelo che sarà veramente una chicca prima di cominciare vi ricordo sempre un like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e in più attivate la campanellina per essere avvisati da youtube quando sono in live o quando pubblico un nuovo video prima di cominciare l'ultima cosa voglio dire un bravissimo a Luca Carollo che ieri qui su youtube nella sezione dei sondaggi ha indovinato il risultato esatto di Inter Milan di Coppa Italia 2 a 1 bravissimo Luca iniziamo a vedere quindi ragazzi questi primi 5 nomi Niccolo Barella l'ho inserito perché sta andando veramente forte anche quando magari non segna o fa assist o comunque va sempre vicino al gol anche ieri in Coppa Italia mi è piaciuto particolarmente e in Inter Benevento secondo me è uno da consigliare perché del centro capo dell'Inter magari Brozovic e Vidal li vedo al momento inferiori a lui anche con l'Udinese ha sfiorato un gol di quelli pazzeschi un tiro al volo da fuori aria dopo una respinta che si è spento proprio di un niente di un niente alla destra di Musso io lo sapete ormai benissimo che dal primo giorno che è esordito a Cagliari io sono stato uno dei pochi penso su Magic a puntare su questo ragazzino allora ragazzino voglio dire io quindi ve lo consiglio ve lo consiglio se lo avete di schierarlo assolutamente andiamo con il secondo nome di questa lista Piotr Zielinski a Verona addirittura la gazzetta dello sport gli ha dato come voto 4 secondo me è troppo è troppo penalizzante perché è vero che il Napoli ha perso 3-1 in cui un po' tutti non hanno brillato soprattutto nel secondo tempo perché nel primo tempo erano andati bene io onestamente se ho Piotr Zielinski il Napoli-Palma lo schiero senza dubbio dovrebbe ancora agire da trequartista nel 4-2-3-1 di Gattuso secondo me è un giocatore dalla tecnica superiore rispetto a rispetto a tanti giocatori che ci sono in Serie A magari deve acquisire un po' di di sicurezza cioè lui deve capire che effettivamente è un top player però secondo me se lo avete rosa va schierato senza senza alcun dubbio diciamo questi erano i due nomi diciamo già più importanti anche perché vi ricordo ragazzi che i giocatori che io metto qui quindi nei 5 centrocampisti da scrivere assolutamente al fantacalcio non verranno messi nella top 11 quindi sono dei giocatori sempre ottimi però che per me magari non vanno inseriti nella top 11 il terzo nome ragazzi è Pessina Pessina dell'Atalanta l'ho l'ho messo perché io stravedo un altro giocatore per cui forse come Casperini esco veramente pazzo per lui secondo me è un giocatore completo perché abbina tanta qualità ma anche tanta quantità perché se guardate le partite dell'Atalanta è vero che Josip Ilic è il mago dell'Atalanta però lui è quello che va a pressare il portatore di palla che non lo fa giocare però quando gli arriva a lavare i piedi anche lui ha una tecnica a visione di gioco e con i suoi inserimenti può fare tantissimi gol è vero che quest'anno ancora in termini di bonus non ha affatto chissà quanti bonus però ragazzi è stato infortunato per parecchio tempo quindi logicamente un po' di meno rispetto ad altri ne ha portati però secondo me può fare un ottimo girone di ritorno e anzi per tutti quelli che magari tutte quelle leghe in cui è ancora svincolato perché all'inizio non si sapeva che fine facesse Pessinna doveva andare a Verona era infortunato e quindi potrebbe essere libero vi consiglio vivamente di metterlo in rosa e di calcolarlo come un semi top o top basso perché vi ripeto secondo me è da puntarci e anche ampiamente andiamo col quarto nome andiamo un po' sempre con nomi magari che fino ad ora non hanno proprio spaccato diciamo al fantacalcio uno che a me piace tantissimo è Roberto Pereira addirittura su Magic l'ho preso nella mia migliore squadra secondo me è un giocatore di quelli che se inizia a fare gol magari nel giro di 5-6 giornate magari può portare 2-3 gol consecutivi perché è un giocatore che all'Udinese ora sta giocando da sottopunta quindi da trequartista abbina sia quantità che qualità come pessina e in più negli anni è sempre riuscito a fare quei minimo 5-6 gol ma è arrivato anche in doppia cifra io magari l'Udinese non è una super squadra offensiva però in in questa giornata spezia Udinese io lo vedo molto bene quindi magari o un bell'assist o un più tre secondo me potrebbe portarlo tranquillamente quindi se lo avete ragazzi mi raccomando puntate su Roberto Pereira perché è veramente è veramente forte secondo me ha fatto ha fatto meno di quello che può fare soprattutto in termini in termini di bonus però bisogna calcolare pure che ha giocato quasi sempre da mezzala quindi non da trequartista ultimamente siccome l'Udinese in termini in termini di punte è molto carente allora sta giocando con una sola punta e lui è lui subito dietro quindi io mi aspetto una bella prestazione da parte sua ma anche magari un qualche bonus ragazzi è rimasto solo l'ultimo centrocampista qui sono andato proprio su un nome diciamo rivelazione perché finora ha giocato pochissimo Alfred Duncan è andato a Cagliari ha ritrovato già la fiducia di mister di Francesco perché lo aveva avuto a Sassuolo secondo me è uno di quei giocatori che magari come settimo ottavo slot potete comprarlo nella vostra fantarosa soprattutto per quei fantacalci magari da 8 10 partecipanti magari a 6 già è un po' più difficile però secondo me avrà una certa titolarità e lui mi ricordo che a Sassuolo i bonus li portava magari logicamente non è chissà quale giocatore ma come ottavo slot come scommessina secondo me ci può stare questa settimana io l'ho voluto inserire perché metto sempre almeno una due scommesse fra i cinque fra i cinque che propongo per non essere troppo banale anche perché i top come vi dicevo verranno inseriti nella top 11 quindi ragazzi mi raccomando se avete questi cinque giocatori schierateli vi ricordo quindi che alle ore 17 uscirà un video molto particolare che non ho mai fatto fino adesso e vediamo oggi come va vi ricordo un mi piace al video iscrizione al canale e attivate la campanellina ciao ragazzi buona giornata